Siamo nati contro la Tav. Non ha detto che il referendum è no assoluto, ha detto che bisogna capire di che tipo di referendum stiamo parlando, in che contesto stiamo parlando, per questo è un'opera che prevede anche un accordo internazionale, quindi non è che si può pensare di fare un referendum senza applicare le norme del referendum, quindi è un percorso complesso, mi risulta che abbia anche detto, e io lo condivido, che non è che si possa dire no a un referendum se sono raccolte le firme e se viene fatto in modo corretto, così come è previsto dalla normativa attuale, credo però che oggi il tema sia prematuro, lo ribadisco, oggi dire sì o no a un referendum è prematuro, dobbiamo avere un'analisi costi-benefici per fare un dibattito nel merito e un'analisi giuridica per capire effettivamente quale può essere il percorso. La posizione del Movimento 5 Stelle è nota, la mia è nota, quindi ovviamente la contrarietà all'opera non cambia, ma oggi il referendum mi sembra sia più uno strumento di campagna elettorale in questo momento. Apriamo il dibattito sul referendum quando sapremo che cosa dice l'analisi costi-benefici e quando sapremo cosa dice il tema giuridico, quindi è prematuro in questo momento. Sono soddisfatta dell'incontro di oggi comunque? Sì, sono soddisfatta dell'incontro, c'è stato un approccio molto costruttivo da parte del Premier che ringrazio per la disponibilità e adesso ovviamente attendiamo di vedere qual è l'esito, se si tradurrà come auspico in circolari che peraltro in parte erano già in fase di predisposizione da parte del Governo. Dice che il referendum...